Circa 300 partecipanti tra architetti, geometri ed ingegneri hanno partecipato al congresso Il futuro dell'edilizia, progettare e riqualificare l'edificio in pianto in chiave sostenibile. Il convegno ha avuto luogo giovedì 2 marzo 2017 a Padova ed è un convegno del ciclo infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Molti interventi scientifici e molte anche le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Oggi abbiamo portato con noi due story case che abbiamo realizzato qui nella provincia di Padova. Uno è un bellissimo intervento in un centro direzionale di Saint Laurent in cui praticamente si è passato da una costruzione in cemento armato, un prefabbricato, una costruzione con alti valori energetici. Tutto è stato possibile anche grazie all'intervento di Alpacom con la propria soluzione per l'isolamento del foro finestra che ha permesso da una parte di andare ad installare un serramento molto pesante perché avevamo luci architettoniche di 3 metri e 20 all'interno di questo prefabbricato e poi di andare ad accogliere praticamente con la nostra spalla l'isolante con il termocappotto che è stato posto all'esterno. Una seconda soluzione sempre fatta qui in provincia di Padova è una realizzazione di una trifamiliare dove io l'ho portato questo caso perché sostanzialmente il progettista voleva rendere i fori, quindi le porte, le finestre del piano inferiore perfettamente perpendicolari in linea con quelle del piano superiore mantenendo tutta una serie di linee precise che si intersecavano e ci è riuscito proprio grazie al tipo di finiture che noi possiamo ottenere grazie all'utilizzo della nostra soluzione. Grazie a tutti!